Qualcuno scappa dal paese da cui viene, scappa per lasciare le proprie pene. Sarebbe davvero una beffa molto atroce far sì che non possa urlare la propria voce. Che qualcosa dobbiamo fare, non possiamo lasciarlo andare lì perché se no lo mettono in peggio non lo sparano. Non ci stai, non ci stai.